Procede a gonfie vele il ritiro del Giuliano Calcio in quel di Rivi Sondoli. Oggi pomeriggio vedremo la quarta e ultima amichevole di questa fase di ritiro precampionato contro il Chieti, altra importante compagine. Le precedenti tre amichevoli, tre test molto importanti che ci ha visti vittoriosi, vincenti in tutte e tre le sfide. La prima contro Lovidiana Sulmona, compagine di eccellenza. Ci siamo imposti per 3-1. La seconda, il Pineto Calcio, neopromossa in Serie C al girone B, ci ha visti vincere per 1-0. Terzo, il più recente match contro Vasto Girardi. Ci siamo imposti per ben 4-1, Vittoria Netta, con una squadra che ha un'ossatura quasi del tutto nuova. Ben 13 nuovi acquisti, quindi una campagna acquisti molto importante e ottima che ci vede non invidiare nessun altro. Ci vede molto competitivi a livello di campionato e del nostro girone, anche con le squadre più blazonate. Come le altre squadre, appunto, hanno fatto una campagna acquisti altrettanto importante, come ha detto anche qualche giorno fa in una recente intervista il nostro DS Amodio. La cosa curiosa è che la maggior parte dei gol sono stati fatti dai nei acquisti, tra questi Marotta, che si è imposto come marcatore in ogni match di amichevole fino ad oggi, Giorgione, ma anche gol di calciatori che già avevamo in rosa dallo scorso anno, come Sorrentino, che ha fatto una doppietta contro il Vasto Girardi e anche Ciufferri. Bene, quindi oggi vedremo quest'ultimo test contro il Chieti e poi si ritorna in patria per preparare al meglio l'esordio in campionato domenica 3 settembre. in casa nostra, finalmente, dopo un anno di esilio, tra virgolette, vedremo il ritorno al De Cristoforo del Giano Calcio, che vedrà sfidarsi contro una compagine neopromossa in Serie C, altra importante blasione, che è quello del Sorrento Calcio.